Operazione aritmetica. Le prime operazioni messe a punto dall'uomo utilizzavano i soli numeri naturali, che vanno dallo zero all'infinito, che vengono rappresentati con il simbolo N. Vediamo l'addizione. L'addizione è l'operazione che, dati due numeri qualsiasi, detti addendi, se ne associa un terzo detto somma. 3 più 2, per esempio. Disegno, a partire da zero, un segmento lungo 3 ed un segmento lungo 2. Per sommare, metto in fila i segmenti e vedo che ottengo un segmento che termina in 5, quindi 3 più 2 uguale 5. Tra tutti i numeri naturali ne esiste uno particolare, lo zero. Lo zero ha la proprietà di non cambiare niente. Infatti, preso un numero qualunque, 0 più 5 è uguale a 5. Se inverso e prendo 5 più 0 è sempre uguale a 5. Si esprime questo fatto dicendo che 0 è l'elemento neutro dell'addizione.